Infine guardiamo la WC del condensatore, 200 Hz, 400 Hz il condensatore comincia a reagire un po' meno, 600 Hz, il condensatore è sempre in ritardo di 90 gradi sulla corrente elettrica, 800 Hz, 1000 Hz, 1125 Hz questa è la risonanza, 1200 Hz, 1500 Hz, 2000 Hz si vede che il condensatore ora reagisce molto meno, 3000 Hz, 5000 Hz il condensatore è quasi sparito, 8000 Hz il condensatore non si vede più.